Ecco di cosa sto parlando. Sta parlando di me, Daniel. Sì, abbiamo fatto un accordo ed è molto semplice. Lei è pazzo. Le cose stanno così. O combatti una volta e per un giorno solo, o combatti tutti i giorni per il resto della tua vita. Io non parteciperò a quel torneo e non voglio più saperne. Avanti, fa vedere al signor Chris come ha imparato le mie regole. Non potete costringermi a lottare. Ok, d'accordo, resta lì e lasciati prendere a calci, eh? Avanti, fai la mossa della gru. Aspetta, prima tocca a me. Così, ancora, dai! Basta, Johnny? No, direi proprio di... Fallo a riprendere. L'hai visto in faccia? Guarda, si è bagnato i pantaloni. Bene, bene, bene. Guardate che c'è. L'infallibile eroe di guerra. Che stai aspettando? Comincia la festa. Siamo vecchi amici. Vieni avanti, piccolo uomo. Vediamo cosa sai fare di interessante. 米, piccolo uomo. Tanto non finisce qui, occhi a mandorla T'avverto, sto per aprire dei dojo cobracai in tutta la valle Sì, insegnerò gratuitamente Un giorno quando la gente dirà karate Intenderà dire il karate del cobracai Anzi, il karate di John Kreese Nessuno si ricorderà più di te Sì, di lui sì, di voi no Adesso, vuoi allenarmi? Fai Adesso mi aghi, ti allena Andiamo, qui è tempo perso Grazie a tutti Grazie a tutti